Buongiorno, buongiorno, sono lo 23, 23 del 23. Non poteva che essere un giorno e un orario così speciale, questa chiusura del mese, per i runners. Come state, runners? Scrivete in una chat. Probabilmente è l'ultimo incontro online dei runners. È un po' malinconica questa cosa. È un po' malinconica perché non so se vi ricordate il grandissimo percorso che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato all'inizio agosto, abbiamo fatto record. Faremo record sto mese. Io sono fierissimo dei runner, veramente. Di quelli che sono rimasti perché abbiamo iniziato in 700, siamo in 200, quindi wow, che roba che abbiamo fatto. Probabilmente sarà l'ultimo forse o il penultimo. Forse il penultimo, forse vi svelo qualcosa stasera. Però ragazzi, in primis vi volevo fare i complimenti per quello che avete fatto, per quello che state facendo e per quello che farete. Abbiamo veramente dato una botta di vita all'azienda, tutti noi insieme, quindi complimenti di cuore. Allora, perché? Ok, innanzitutto voglio dirvi perché ho fatto 23 e 23 alle 23. Il training era alle 23. Poi ho pensato, oggi pensavo, ho detto, il 23 sapete che è il mio numero preferito, ce l'ho tatuato. E quindi niente, passo subito a dirvelo. Il 23 e 23, il 23 alle 23 e 23 è per darvi un insegnamento. Oggi ci pensavo mentre ero di ritorno da Milano nel treno e lui sapete che uno dei miei mentori è Michael Jordan, che è un grandissimo cestista. Ha vinto tutto, ha vinto tutto nel basket. Chi di voi lo conosce? Scrivete nella chat. Io sono sicuro che almeno il 50-60% di voi conosce questa persona qua. Se su Wikipedia ci fosse una foto unica per uno sportivo, sarebbe la sua ed è uno dei miei primi mentori. Ho visto tutto quello che ha fatto da bambino, da 10 anni a 20 anni, in loop i suoi video, tutti, oggi potete trovarli su YouTube. E guardate quello che ha vinto, ha vinto tutto praticamente. Ha vinto un campionato giovanile, sei campionati NBA che è la Lega di Basketball americana, ha vinto due ori olimpici, è nella Hall of Fame, quindi nei 50 migliori giocatori della storia, cinque MVP delle finali, un difensore dell'anno, insomma è 10 volte miglior giocatore dell'NBA, 14 volte All-Star partecipazione, 3 volte MVP vuol dire miglior giocatore dell'All-Star, ha vinto due volte la gara di schiacciate, è stato per 11 stagioni selezionato nel primo quintetto NBA, insomma ha vinto tutto. Ragazzi ha vinto tutto. E poi questi sei campionati qua, lui li ha vinti in un modo molto particolare, ha vinto i primi tre di fila, e poi ha smesso perché il padre è morto, e la passione del padre era al baseball, è andato a giocare a baseball in onore di suo padre, quindi immaginate come se Maradona smettersi di andare a giocare a calcio e passasse ad andare a giocare a golf, perché era la passione del padre. Lui l'ha fatto, chiaramente nel baseball non ha avuto successo, tornò due anni dopo, a 34 anni si rimise a giocare, che è stato uno sportivo, è tardissimo, e ha rivinto tutto di nuovo. Ha rifatto il tripeat, cioè ha rivinto tre campionati consecutivi l'ultimo a 36 anni, tra l'altro l'ultimo l'ha vinto all'ultimo secondo, con l'ultimo canestro. Infatti, anche se Michael Jordan ha vinto tutte queste cose qua, che sono tantissime, chiunque nello sport non lo ricorda per questo, ma lo ricorda per questo. Michael Jordan è ricordato nella storia per i suoi canestri sulla sirena. Che cos'è il canestro sulla sirena? L'ultimo canestro, quando una partita sta in pareggio, e l'ultimo canestro determina sul gong il vincitore della partita, che era la squadra di Michael Jordan. È stata la persona che in carriera ne ha fatti più di tutti. Quindi, nonostante lui abbia vinto tantissimi titoli, oggettivi, medaglie, trofei, le persone lo ricordano per i 28 canesti sulla sirena. Cioè, quelle 28 prestazioni che lui ha fatto e che hanno consentito alla sua squadra di vincere. Ed è proprio questa l'analogia che voglio farti per la chiusura a mese. Cioè, la chiusura a mese in vai, che tu sia nuovo, che tu abbia una qualifica, è quella cosa che fa la differenza e che fa capire chi lo sta facendo davvero, come Jordan, e chi lo fa per altro. Il network è bellissimo, è una community, è una famiglia, diciamo che appaga tantissimi bisogni. Quello di crescita personale, quello di celebrazione, di appagamento, di connection, di importanza, tutti. La chiusura a mese è quella cosa che fa la differenza, è quel canestro sulla sirena. Per quanto mi riguarda, non esiste un mese che io non abbia chiuso il mese in vai, da quando sono entrato. E voglio però farti capire che se Michael Jordan ha vinto tutto, ma si ricorda per i 28 canesti sulla sirena, anche i networker, a fine carriera si ricorderanno per le chiusure mese, cioè per le qualifiche rotte, per le vittorie ottenute. Quindi se sei un networker che vuoi fare la differenza, non devi inanellare a rank di carriera piuttosto che vittorie, devi inanellare solo ed esclusivamente chiusure mese. Che tu sia nuovo per fare Rising Star, benvenuto nella tua prima chiusura mese, o che tu sia Crown e vuoi fare Global, o che tu sia Royal e vuoi fare Crown, o che tu sia Ambassador e vuoi fare One Star, che tu sia Executive e vuoi fare PD. La chiusura mese e il canestro sulla sirena del basket. E però cosa dice Michael Jordan? È vero che ne ho fatti 28, sono stato l'atteta che ne ha fatti di più, ma è anche vero che altre 26 volte quel tiro lì l'ho sbagliato. Perché se noi vogliamo diventare i più bravi in una cosa, dobbiamo essere la persona che sbaglia di più in quella cosa. E questa frase è bellissima, nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso 300 partite, 26 volte avevo la palla decisiva per vincere e abbiamo perso. Ho sbagliato, ho fallito così tante volte che è per questo che alla fine ho vinto tutto. Quindi, questo è il mindset dietro la chiusura mese. Cioè, non è oggi la chiusura mese, la chiusura mese è per sempre, di continuo, fino a che avrai un codice nel network marketing. E inizia dal primo mese. non sentirti spinto, anche perché io oggi ti aiuto perché sei un runner, non posso più aiutare col mio mindset una persona normale. Tu sei un runner, hai scelto di essere un runner, hai scelto di correre e quindi ti dico la verità. Io ho iniziato a chiudere il mese, il mese 1 e anche questa chiusura mese qua sarà il mio mese, non lo so, 46, 47, chiuderò come se non ci fossero domani. Ed è per quello che alla fine vincerò tutto. Questa frase qua racchiude tutta la mia carriera. e quindi volevo condividerla con te. Per cui, non importa se sbagli la chiusura mese, l'importante è che hai il coraggio di prendere quella palla e di fare quel canestro. Cioè, che fino all'ultimo secondo tu speri in cuor tuo di fare la prestazione che hai voluto, dentro vai. Infatti, la chiusura mese è 100% ma in sette convinzioni. Il sistema non è per la chiusura mese. Ripeto, il sistema non è per la chiusura mese. Il sistema è per la duplicazione e per la scalabilità del business. Ma la chiusura mese è 100% mindset e convinzioni. Se tu sei nuovo e vuoi chiudere, devi avere il mindset per farlo. Se tu sei un leader in crescita e vuoi chiudere con un team, devi ancora essere più ossessionato. Che siate nuovi o che siate più in alto e in qualifica, la chiusura mese è mindset. E prima di chiudere devi proprio scoprire chi sei, devi scoprire cosa vuoi, dove vuoi andare. Sono queste cose che dopo nella chiusura mese fanno la differenza. Certo, lo so che sapete andare a guardare i PQV, i Rising Star, pianificare i party. Cioè, la parte di sistema c'è per forza ed è la cosa facile da imparare. La cosa difficile è proprio quello di capire chi sono io. Chi sono dentro vai, dove voglio andare. Io, ad esempio, per la prima volta io so chi sono e cosa voglio. Fino a prima di vai mi ricordo solo una cosa, mi ricordo la paura. una paura costante in famiglia di non farcela, di non arrivare a fine mese, di questo, di quell'altro. Questa sensazione di paura che tu puoi percepire perché se succede qualcosa non è le finanze. E quando sei in paura, in stress, non hai tempo di pensare a chi sei, dove vuoi andare. E queste cose te le porti dietro in chiusura del mese. Se vuoi che una cosa cambi, può cambiare e vai allo strumento per fartela cambiare. È chiaro che ieri facevo l'analogia di Sumacchia. Vai più forte te in una Ferrari che in una 500. Tu sei su una Ferrari, vai ti può portare lontano, vai allo strumento che ti può far cambiare, ma le cose non cambiano con le speranze. Non cambiano perché vogliamo che cambino. Cambiano perché le facciamo cambiare. Perché ci facciamo il mazzo. Come direbbe Max in francese, ci facciamo il culo. Basta queste cose di inseguire la propria passione che deve... Cioè, alla fine, ragazzi, devi fare quello che c'è da fare, anche se non ti piace, se hai capito quello che c'è da andarsi a prendere. Molte volte noi abbiamo questa parte di scopo che mettiamo dentro vai che ci differenzia dalle altre aziende. Però non deve diventare la scusa che se non ti piace non lo fai, perché vai è un business e chi non ottiene i risultati in vai, che tra virgolette è l'unico network che funziona, gli altri sono truffe, anche se sono legali, a vedisco, a vedasco, non funzionano senza clienti. Siamo l'unico network con i clienti e chi non ottiene i risultati qua è solo perché si concentra su quello che ha oggi o su quello che è stato ieri. Invece, chi cresce, chi raddoppia, chi triplica, abbiamo ambassador questo mese che triplicano i fatturati, si concentra su quello che può avere, su quello che può ottenere, su quello che può andarsi a prendere. Quindi, tu cosa vuoi attraverso vai? Scrivilo nei commenti cosa vuoi attraverso vai, perché ti sei iscritto e che parte vuoi fare in questo gioco qua. Perché possiamo aiutarti per chiudere il mese in questa parte qua. Sicuramente non nei report, quello te l'avranno già detto mille persone, ma non è quello che fa la differenza. Veramente, noi cerchiamo di mettere vai, di legare la parte finanziaria, di legare la parte di scopo. Insieme, siamo l'azienda più bella del mondo. Però se la parte che appaga lo stesso e non ti fa guadagnare, io non ci sto. Perché io sono un leader, sono un imprenditore, Max, anche noi vogliamo creare dei leader, non dei follower che guardano i trading così. Bravo! Bravo! No, bravo! Te devi diventare bravo, te devi cambiare vita. Io abbiamo fondato Vai, l'abbiamo creata da zero, l'abbiamo resa eccezionale per farti cambiare vita, non per farti dire che siamo bravi. Quindi, se tu vuoi cambiare Vai per le cose che state scrivendo, quante persone avete chiamato oggi? Quanti soldi avete guadagnato oggi con Vai? Quanti soldi ti servono per la tua famiglia? Quanti te ne servono per vivere? Quanti te ne servono da risparmiare? Quanti ne vuoi investire? E in base a questo, quante persone sono venuto al tuo party? Sai, tieni monitorati i numeri, tieni monitorati la lista nomi o stai facendo così per fare? Perché ti assicuro che alla chiusura del mese è tutto mindset. Se tu hai deciso chi vuoi essere dentro Vai e perché sei in Vai, ragazzi, non si dorme. Diventi ossessionato, non motivato. La motivazione non basta. La motivazione non ti fa fare un training alle 11 e mezza. Dieci minuti fa, mio figlio mi ha chiesto Babbo dove vai? E ho detto vado un attimo di là e mi ha detto io voglio venire con te che domani mattina parti. E ho detto è lo stesso. Mia figlia oggi quando sono arrivata a casa mi ha detto Babbo perché sei a casa? Non mi ha detto perché vai via. Mi ha detto perché sei a casa. No, è ossessione. La motivazione non basta. La motivazione non ti toglie il sonno. La motivazione non ti fa fare chilometri. la motivazione non ti fa fare quelle cose che abbiamo fatto noi all'inizio. Serve essere ossessionati e sei ossessionato se hai capito vai dove ti può portare e se hai deciso di essere quella persona lì in un futuro. E tra l'altro ragazzi i business tradizionali sia nel network che fuori dal network non si espandono di solito cioè i business tradizionali perché finiscono di risorse perché non ci sono i soldi. Il networker non si espande perché finisce la voglia finisce il desiderio mentre un business tradizionale finisce per mancazza di fondi le banche non te li danno il cash flow non ce l'hai il networker non ha di questi problemi non ha di questi problemi il flusso di cassa del networker è sempre positivo poi da noi l'autoconsumo non lo paghi quindi il networker che non si espande non si espande perché finisce la desiderio la voglia e non puoi fare soldi se non li vuoi fare nel network marketing e se non hai desiderio in realtà non sei un networker sei un cliente che si fa chiamare promoter se non hai un desiderio non hai un business del network perché l'unico carburante è vero che vai più forte di Schumacher nella 500 tu sei nella Ferrari ma il carburante della tua Ferrari è proprio la voglia il desiderio quindi devi ricordarti che se non cresci ti stai contraendo ogni business se non cresce cala e quindi non hai scelta ogni cosa che fai ti fa crescere o contrarre quindi la domanda è quanto ti vuoi espandere nel tuo network cioè non ti devo insegnare io della chiusura a mese tu sei entrato in vai perché è un business perché hai degli obiettivi e quindi cioè non è una questione chiudere il mese la questione è chi sei tu dove vuoi andare cosa vuoi chi sei dentro vai e ricordati anche che il network hai la fortuna che sia un moltiplicatore non un addizionatore come tutti gli altri business vai a moltiplicare con un'azienda tradizionale te lo dico io dieci anni eh esatto dieci anni abbiamo un moltiplicatore i miei conti di anno in anno erano più tre più uno meno uno meno cinque più sei ma due cifre mai noi ne abbiamo tre di cifre è pazzesco è pazzesco o cresci o contrai e se sei nuovo che non cresci in realtà ti stai contraendo perché i dubbi le perplessità che si insinuano quando non cresci ti fanno contrarre ammazzano il tuo credo e tu comunichi di meno agli altri ricordatevelo tutti dall'ambassadore all'associato se non cresci ti contrai magari non nei numeri ma nelle convinzioni che sono tutto nel desiderio che è tutto e quindi la verità è che anche in vai che funziona per tutti funziona per tutti però la maggioranza non ce la fa ma è solo perché non lo vuole perché è contenta di avere abbastanza ed ecco perché questo training di chiusura lo faccio solo con voi che siete runners che avete detto spingetemi perché la maggior parte non lo accetterà mai e non gli serve e io mi sono sempre chiesto perché le persone hanno obiettivi in tutte le aree della vita quindi nello sport quindi nella vuole la macchina vuoi la casa vuoi quello vuoi quell'altro vuoi la cena obiettivi in tutte le aree della vita in vai no in vai no vai è uguale soldi quindi vai uguale risorse quindi vai uguale a libertà vai uguale a vita dei sogni devi avere degli obiettivi tangibili misurabili in vai perché l'ostacolo della chiusura cioè è una cavolata allora ci sono due ipotesi la prima è che il team cioè che tu sei nuovo e quindi non riesci a chiudere giusto? perché se sei nuovo non hai un team l'unico ostacolo tra te e la chiusura tra te e la chiusura mese di un reg nuovo è la chiusura di un eps o la chiusura di un cliente se sei da solo quindi 500 euro parliamone sono molti soldi 500 euro se a 40 anni o a 30 o a 50 hai cercato di risparmiare fino adesso soldi per 20 anni e dopo 20 anni sei qui che ci pensi di entrare fallo dammeli valli a trovare cioè è questa l'attitudine che dovete avere quando una persona è lì lì traballante per iscriversi o meno a volte vedo delle persone pronte per iscriversi e vedo dei promoter che gli dicono no ma prima prova il prodotto ragazzi non boicottatevi voi la chiusura eh e poi glielo dobbiamo dire alle persone non è niente di speciale vai è una possibilità ma ripeto se per 20 anni hai risparmiato sei qui che ci pensi di entrare se per 30 anni hai cercato di risparmiare sei qua che pensi di entrare trova 500 euro dammi le iscriviti che almeno c'è una possibilità che fra 10 anni la tua situazione sia diversa e poi anche se sei nuovo non lo devi dire tu lo devi passare ad un appliance che ha queste convinzioni e lo chiude non gli fa lo script della chiusura ma sono le convinzioni dell'ambassador che avendo visto più risultati avendo visto più più vite cambiare lo iscrive con un sorriso non con cosa dice ma con l'energia con quello che trasmette quindi questo è un ostacolo assolutamente sorpassabile se invece hai un team e il team non chiude semplicemente perché tu non sei infuocato abbastanza non sei l'esempio e non viene duplicato è molto semplice quindi infuocati tu prendi fuoco tu decidi tu chi vuoi essere quanto vuoi guadagnare quanto ti serve risparmiare per comprarti un appartamento da affittare cioè devi avere degli obiettivi tangibili del tuo stile di vita e li devi tramutare in vai perché vai è il veicolo che ti può portare veramente tanto vai è uno strumento che ti può portare all'infinito e te vai piano e il tuo lavoro che è uno strumento che ti dà solo il pane ti impegni che non ha che ha un tetto a 1000 euro 1500 euro lì dai il massimo ti impegni 8 ore al giorno per 40 anni in uno strumento che ti rende miserabile perché se voi pensate che il miracolo della nascita come ognuno di noi nasce serva per farci fare la spesa e pagare le bollette siete sulla strada sbagliata vai a un veicolo dove è limitato e te vai piano entri e vedo come va no forse al contrario forse devi fare il tuo compitino al lavoro che ti serve per sopravvivere e devi darci dentro come una satanata in vai che ti può portare a libertà uno se crede in quello che vende chiude chiude spinge insiste imparare a chiudere il mese imparare a chiudere gli EPS ragazzi è fondamentale è fondamentale imparare come un applying chiude perché chi chiude non è mai senza lavoro chi chiude non ha mai il videt rosso chi chiude è a posto non è mai senza qualifica non è mai senza persone non è mai senza team chi chiude se uno è interessato lo chiudi se uno vuol vedere il video te lo mando adesso non sono troppo occupato ragazzi non siete troppo occupati è disonesto non va bene quindi prima impegnati e trova il modo dopo e chiudi quelle PS e chiudi il mese mese dopo mese per costruire qualcosa di grande tratta vai come un business è tutta una questione di convinzioni il calendario il calendario va riempito rispetto a quello che hai come diceva Max raddoppialo se tu raddoppi il tuo calendario raddoppi quelle chiamate tutti noi conoscono persone che hanno soldi i soldi ci sono sul mercato è pieno di gente in quel telefono che ha soldi e li devi solo chiedere e ripeto vendi un prodotto che fa star bene che impatta sulla vita o vendi un prodotto dove i numeri fa paura è un prodotto che hanno bisogno le persone di mangiarlo oggi mangiamo schifezze quindi il mercato per noi è immenso con questa consapevolezza e col bisogno che c'è di avere un'economia migliore in casa perché il 58% delle famiglie non arrivano a fine del mese cioè cosa volete di più il dubbio il dubbio è massacrante perché se passano due tre giorni senza vedere un cliente senza vedere un promoter senza vedere il binet che va su e dopo è un casino dopo sapete cosa succede ve lo dico perché so come funziona la mente abbassate i vostri obiettivi e lì diventate criminali mai abbassare un obiettivo mai abbassare un obiettivo tua mamma o tuo babbo ti diranno di abbassare un obiettivo oppure un manager in una grande azienda ti potrà dire sì ragionevole ma c'è un c'è un motivo se il manager lavora per l'imprenditore tu sei imprenditore e devi avere il tuo obiettivo e lo devi raggiungere devi raddoppiare il calendario e devi andartelo a prendere perché nel momento stesso in cui tu abbassi un obiettivo è meglio che tu fallisca il tuo obiettivo che raggiunga quello degli altri se rinuncia al tuo obiettivo è come rinunciare al tuo sogno perché l'obiettivo è l'attacca che misura la distanza tra te del tuo sogno quindi se rinuncia l'obiettivo rinuncia al tuo sogno e se rinuncia al tuo sogno come puoi costruire un'organizzazione come puoi avere mille persone assolutamente noi siamo fortunati perché viviamo in un paese dove 7,9 persone su 10 vivono da stipendio a stipendio da stipendio a stipendio da stipendio a stipendio 7,9 persone su 10 nello stesso paese però come ci dice il nostro amico Roberto Re l'anno scorso ci sono stati 400.000 nuovi milionari e come è possibile che in un paese dove l'anno scorso lo 0,8% della popolazione è diventata milionaria il 7,9% ancora viva da stipendio a stipendio o sono tutti stupidi o ci hanno resi stupidi o ci danno le sbagliate informazioni e noi ne abbiamo le informazioni per svegliare le persone abbiamo le informazioni per cambiare la vita delle persone abbiamo un university abbiamo abbiamo la macchina vai a una ferrata Fabio per cambiare per cambiare il mindset a una persona che è appena introdotta ma gli basta guadagnare 100-200 euro cioè la fiamma non è che gliela accendi con 50.000 euro la fiamma gliela accendi con i primi 200 euro nei primi 10 giorni ti fai fare 7-8 clienti due promoter così al volo il terzo lo va a prendere per strada guarda ve lo garantisco i primi soldini fategli rivedere alla velocità della luce e avrete un team di cavalli da corsa è il modo in cui siamo formati prima che ci rende deboli adesso in chiusura che non ci dà quello step in più io voglio dirti questo se oggi tu hai delle difficoltà finanziarie e probabilmente se sei in vai il 90% di persone il 95% per quello non è perché spendi troppo sono sicuro che tu eri come me io e mia moglie stavamo attenti in casa facevamo i punti coupon cioè ragazzi artefissi per riuscire a campare il vero problema non è che la gente sciuppa i soldi perché c'è anche questo detto che la gente sciuppa i soldi non è vero il problema è che nessuno impara a farli a produrre ad avere un'entrata in più e vai è proprio questo tu devi vedere vai veramente come una mac cioè se io riuscissi a farti capire quello che una persona può essere in grado di fare e di imparare attraverso questo strumento tu non dormiresti perché finché sei una brava persona il denaro ti aiuta ci hanno insegnato che non crescono sugli alberi ci hanno insegnato che i soldi sono il nemico dell'umanità invece sono solo una lente di ingrandimento sulla persona che sei se sei una grande persona i soldi servono e come ti aiutano alla grande ti danno risorse ti danno scelte ti danno opzioni ti danno libertà e la maggior parte di persone vive in quello stato di paura che io ho vissuto praticamente fino all'età in cui sono uscito di casa quella costante paura che non sai se ce la farai bene non è perché si spende troppo non è perché si spende troppo una cena non è spendere troppo è perché nessuno ci ha mai insegnato a fare soldi ci dicono i soldi non crescono sugli alberi è vero dimmi dove crescono però dimmi dove crescono perché in Italia piantiamo più carta che alberi e i soldi ci sono nell'economia c'è un'abbondanza di denaro enorme solo nella tua mente non c'è l'abbondanza di denaro solo lì c'è scarsità di denaro ed è per quello che abbassi i tuoi obiettivi e crei i tuoi obiettivi in base a quelli degli altri per la pressione dei pari invece i tuoi pari dobbiamo diventare noi che siamo persone che raddoppiano che raddoppiano decuplicano centuplicano la maggior parte delle persone si sveglia e pensa a ieri e vive letteralmente nel passato sperando che cambi qualcosa nel futuro e noi queste cavolate qua è vero che erano cavolate ma oggi sono tutte vere e quindi io voglio che tu mi risponda nei commenti cioè col tuo buddy col tuo applying col tuo compagno di viaggio cioè ditemi cosa dite cosa esce da qua cosa verbalizzate perché noi non verbalizziamo niente che non riusciamo a vedere con la mente e quindi se non lo dici è un piccolo problema io Max voglio che dicano queste cazzate ancora saremo quelli faremo quell'altro poi noi io mi ricordo non dormivamo e non dormiamo ancora no esatto è una roba adesso hai la consapevolezza quella volta avevamo il sogno ma noi vivevamo all'interno del sogno come se l'avessimo già realizzato che è la chiave e poi c'è da pagare il prezzo pagare il prezzo tempo tempo libero giorno notte cioè stiamo lavorando sulle vostre convinzioni perché poi per avere il successo che abbiamo noi devi pagare il prezzo non importa chi sei oggi non importa quanta esperienza hai e quanto hai guadagnato nel business non conta niente ci sono le più grandi aziende più esperte del mondo che stanno fallendo oggi le aziende più grandi al mondo stanno fallendo quelle che hanno 30-40 anni non c'entra niente quanto esperienza hai quanto hai guadagnato c'entra se hai voglia di pagare il prezzo oggi così potrai pagare qualsiasi prezzo domani ad esempio i miei figli viaggiano girano il mondo c'è mio figlio Michael che dice vado a Dubai vado di qua io quando avevo sei anni non potevo non l'ho mai fatto e non è stato facile siamo stati giudicati da tutti e noi all'inizio per tutte le cose dai promoter che sono usciti dagli amici dai familiari ci hanno riso dietro ci hanno provato a copiare non ce l'han fatta e ancora oggi lo siamo perché molta gente non ha il coraggio di guardarsi all'ospedale e cambiare idea 4 anni 4 anni 18 ore al giorno non 10 non 5 18 ore al giorno e quindi ragazzi saranno comunque 3-4 anni anche per voi per arrivare ai nostri livelli saranno 3-4 anni di no di negazioni di derisioni di essere giudicati ma se c'è qualcuno che sta pensando di avere successo e non pagare il prezzo si sbaglia ricordatevi che nel GST vi ha chiesto il sogno ieri abbiamo lavorato a Biella è stato bellissimo a Biella commenta se c'era c'era l'LST di Biella abbiamo preso un quarto d'ora per lavorare sui sogni abbiamo detto che non succedono sul divano o nel letto vi cito una citazione di Elon Musk che dice è una cosa c'ho la sua biografia qua l'ho letta in questi giorni e Elon Musk dice Max andremo su Marte e poi vediamo perché non sappiamo cosa troveremo lo amo cioè il mindset di quella persona lì di dire andiamo su Marte quindi investiamo miliardi per andare su Marte poi vediamo è il discorso di compromettersi e poi vedere è il discorso che quando devi fare quella chiamata e poi vedi che ti fermi a fare quella chiamata per mille paure perché se Elon Musk va su Marte e poi vede te puoi fare quel numero e poi vedi puoi fare quella chiamata e poi vedi puoi fare quell'invito e poi vedere puoi mandare quel video e vedere dopo puoi fare quel follow up e vedere dopo e devi andare fuori devi andare sul campo devi stare sulla piazza come dicevano i venditori devi andare a conoscere un nuovo test di darti di continuo perché la maggior parte di persone non sorpassa mai queste piccole barriere si stoppano tra l'idea e l'esecuzione andiamo in overthinking si dice cioè pensiamo troppo e la mente lì vince sempre ci blocca sempre e quindi si stoppano o vanno piano ogni azienda amore perché va piano o perché perde tempo invece l'imprenditore di successo è quello che ha un'idea e la monetizza immediatamente molti odiano la vendita non so perché forse ce l'hanno insegnata a scuola non so da dove viene sta roba qua però la vendita è un'attività di espansione più vendi e più ti ingrandisci e ogni decisione che prendi come abbiamo detto prima o ti fa espandere o ti fa contrarre quindi prima dell'azione e del comportamento c'è la decisione che decisione hai preso a testo a fine mese qua e lascia stare in vitality quello è un moltiplicatore è un'esponenza è una roba grossa proprio grossa che ti spedisce sulla luna ma prima c'è cosa hai deciso di chiudere a settembre hai preso una decisione che ti fa contrarre o nei numeri o nel credo o hai preso una decisione che ti fa espandere che ti porta a espandere che ti porta quella persona al vitality al vitality quindi se ti vuoi espandere dimmi cosa fai quando lo fai devi essere disposto a sorridere quando non va bene e devi farti il mazzo come diceva Max devi chiamare la gente fare contatti fare i party se non basta non fai più telefonate usate la terza persona terza persona di continuo fatevi aiutare a chiudere i prospect perché la terza persona funziona funziona ragazzi non usate tutte le strategie che vi hanno fino adesso insegnato perché sono strategie che funzionano perché sono state già provate non inventatevi niente di nuovo io mi fermo quando arrivo lì e fino a che non ci arrivo tiro e dipende tanto anche dalle cinque persone che avete intorno a volte voi l'avete già sentito l'abbiamo già insegnato delle cinque persone che ti frequentano di più ecco ti dico chi scegliere chi fa di più perché le cinque persone che frequenti ti abbassano la media del credo delle azioni delle ambizioni dei sogni degli obiettivi in una maniera drastica e a volte si tende a pensare chi è che frequento chi è che frequento bene ti dico io chi devi frequentare devi frequentare le cinque persone che fanno di più che conosci perché vendere chiudere moltiplicare il business fare rank di carriera è un'azione è fare e quindi tu hai bisogno di cinque persone di fianco a te che fanno che siano online che siano on file che siano runners nella vita una semplice telefonata anche se sono fuori da vai ma che loro sono in intensità hanno ritmo tu stai di fianco a loro ti viene anche il ritmo a te per il tuo business quindi farle chiamate follow up partecipare agli eventi chiudere il team agli eventi è azione anche se ci hanno programmato male da piccoli perché a quanti di voi è stato detto da piccolo non insistere fai basta non abbiamo i soldi non me lo chiedere più non abbiamo i soldi e dopo ci lamentiamo che non facciamo il follow up quando abbiamo un programma installato che ci dice non insistere fai basta non te lo meriti non chiedere di più non abbiamo i soldi tutti ce l'hanno mi raccomando non parlate così ai vostri figli ma oggi siamo grandi siamo adulti non possiamo rimanere da quarantenni da cinquantenni schiavi di quello che ci hanno detto a cinque anni quindi circondatevi di persone che fanno di runners in vaia nella vita e ricordatevi di guardare il futuro perché l'imprenditore è colui che si sveglia e guarda al domani cosa succederà dopo è una persona che guida e chi guida guarda davanti che sia in un'impresa che sia in vai che sia nella moto su una macchina chi guida guarda davanti fa attenzione a quello che accade davanti a loro né un guarda nel passeggero che è con lui né guarda dietro perché mette a rischio a repentaglio la vita delle persone che sta guidando quindi per voi è uguale accelerate la vostra chiusura e accelerare la vostra chiusura significa che le persone là fuori per quanto mi riguarda rimangono meno nell'ombra perché noi quello che portiamo è un briciolo di speranza un briciolo di luce rimarranno infelici finché non gli andate a fare l'invito questa è la convinzione che dovete avere rimarranno infelici finché non li farete rising star e li porterete al vitality finché non arriviamo noi e non gli portiamo un po' di by life in questa famiglia dove diamo abbracci baci riconoscimenti strette di mano gli diciamo ce la puoi fare gli diciamo se io ce l'ho fatta ce la puoi fare anche te ci sono 5 miliardi di persone con la mano alzata stanno solo aspettando qualcuno che vada quindi accelera chiudi fallo per te attraverso gli altri espanditi espandiamoci tocchiamo la vita delle persone con la magia che abbiamo creato qua dentro se non riuscite ad ascoltare chi vi sta intorno fate così ci state lo stesso intorno poi quelle della Bose non si sente niente se tu metti queste io se le metto non sento quando anche io quando vado ai compleanni quando c'è Natale quando si sta in famiglia non è che poi si può fare l'ignorante da non andare e poi vediamo le persone che amiamo ci andiamo ma se tu sei formato e hai un mindset e delle convinzioni così ti dà fastidio proprio sentire parlare la persona normale ti dà fastidio soprattutto quando sono persone che ami tantissimo e quindi vai in queste cuffie e fai così e fai così ed è normale che a me mi prendono per matto perché sono l'unico multimilionario della famiglia e la verità è che il limite non esiste che non facciamo mai abbastanza che ognuno di noi noi due compresi potremmo adesso raddoppiare il nostro livello di attività quindi se possiamo noi puoi anche te non raccontartela dipende solo chi vuoi diventare chi vuoi essere attraverso questo strumento qua ecco cos'è la chiusura mese e il coraggio di dire qualcosa che ancora non sai qualcosa che ancora non vedi qualcosa che ancora non credi ma tu lo dici perché lo stai andando a prendere sei proiettato verso il futuro hai deciso cioè hai deciso quando hai deciso e ti infuocchi il mese si chiude da solo non sei te che chiudi lui e lui che ti chiude a te la verità è che è solo mindset è solo e dipende da quello che hai deciso a te è bellissima questa cosa cioè hai il pieno controllo della chiusura a mese che tu sia nuovo o che tu sia national o regional dipende da te da quanto sei infuocato te io lo vedo tutti i giorni l'ho visto su di me lo vedo degli ambassador di oggi chi va piano non chiude il mese lui è il suo team chi è infuocato tutto il team è infuocato quindi tu devi avere deciso cosa vuoi essere in Vai quanto è importante per Vai che strumento hai Vai quanto vuoi guadagnare devi fare i conti della tua famiglia quanto entra quanto spendi quanto vuoi risparmiare e quanto attraverso Vai vuoi andare a guadagnare quanti clienti servono a te al team quanti promoter quanta gente seduta è tutto bisogna trattare bene il denaro come ti dicevo prima tutti hanno obiettivi su tutto tranne che sul denaro e questo ti porta a non avere risorse o essere in paura o essere in scarsità perché ragazzi se ti denunciano se succede una disgrazia cioè anche ho letto un libro due settimane fa dove dice che praticamente i milionari che non arrivano ai 10 milioni li chiamano unit digit millionaire cioè i milionari da 1 a 9 milioni non sono al sicuro perché le cause legali qualche qualche disgrazia qualche incidente qualche malattia eccetera 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 può rendere può mettere in difficoltà anche un milionario a singola cifra quindi è ora di iniziare a trattare proprio anche le finanze in maniera professionale noi lo stiamo facendo per noi lo stiamo insegnando agli ambassador del master in leadership della vai university col corso di gestione finanziaria se tu sei all'inizio non ti preoccupare voglio solo che tratti vai da business che capisci che tutto è legato al prodotto ai clienti cioè per quello tu l'hai scelto di fare per business perché tu l'hai scelto di fare come business per il prodotto per i risultati perché funziona per il piano marketing per i fondatori perché c'è Fabio per l'inner circle per la leadership adesso è ora di trattarlo come business è ora di espandere la tua attività di vendere di chiudere di non trovare scuse di sapere quanto mi serve per il mio obiettivo di scriverlo quell'obiettivo non di averlo in testa qual è un'idea un obiettivo scritto definito misurabile specifico spidante è ora di fare le cose sul serio è un mindset la chiusura non è guarda i PBV i PBV li guarda anche l'associato te non devi guardare i PBV devi guardare qua dentro cosa c'è qua quanto fuoco hai qua cosa vuoi fare chi vuoi essere cosa vuoi significare per la gente che esempio vuoi essere per la tua famiglia ecco cosa è la chiusura mese perché se c'è chiarezza in questo è la chiusura che ti cerca non sei tu che devi chiudere il mese ricordatevelo mi raccomando ragazzi abbiamo un dono nelle mani abbiamo l'azienda più bella del mondo espandiamola chi non chiude egoista chi non chiude limita vai chi non chiude sta facendo retrocedere vai l'azienda più bella del mondo chi non chiude egoista chi non vende egoista chi non spinge egoista chi non fai chi da mille egoista chi non fai clienti egoista perché vai a nobile vai a piena di scopo vai a una forza del bene quindi se tu la contrai sei un egoista non essere egoista vendi chiudi espanditi fai il rank e prenditi quello che è tuo che te lo meriti come se lo meritano tutti solo che non ci hanno insegnato come si fa al vitality tu non vieni per vedere ah il vitality no vieni per vedere il vitality abbracciare baci kiss appunti ma vieni per ottenere un obiettivo tangibile misurabile dello strumento finanziario che hai scelto per renderti migliore la tua vita due macro aree di obiettivi il primo è il mio rank quello del team e quanti rising star per quanto riguarda i rising star devo andare a vedere quanta gente ho da chiudere cioè se io ad agosto ho arruolato 30 promoter e a settembre faccio 3 rising star non mi sto espandendo mi sto contraendo se io sono nuovo e non lo faccio mi sto contraendo non mi sto espandendo ok quindi guardate bene quanti EPS avete fatto ad agosto e anche a settembre e quanti ne chiudete a rising star se il tasso di conversione dei rising star è meno del 33% siete in contrazione mi raccomando il dato più importante mio rank rank del team quanti rising star a settembre per ottobre già adesso intenzionalmente fare succedere le cose che rank voglio io a ottobre che rank voglio dei miei a ottobre e questi due rank con quante persone al vitality le ottengo e lo scrivete e iniziate parti parti raddoppia triplica il calendario zoom webinar three way call boom 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 lo sapete ragazzi lo sapete come si fa è solo l'intensità è solo il calendario è solo il desiderio mi raccomando però settate i prossimi 20 giorni in queste due macro aree settembre mio rank rank degli altri rising star ottobre mio rank rank dei miei quante persone mi servono al vitality per far sì che succeda quel rank se vuoi avere una stima più o meno considera che una persona è mille punti ok quindi se vuoi fare executive con 50 persone al vitality fai executive se vuoi fare ambassador con 150 persone lo fai se vuoi fare national con 25 persone lo fai una persona è circa mille punti abbonda ok abbonda chiaramente non fare il rabighino non essere in scarsità sei in abbondanza quindi ragazzi mi fa piacere leggere il vostro coinvolgimento mi farà soprattutto piacere essere sul parco del vitality aiutarvi essere prima nei mercati aiutarvi domani abbiamo Catania poi c'è Padova con Re Catania Padova c'è Re un iscritto su uno 100% di conversione perché in quegli eventi regaliamo i biglietti per il vitality agli ospiti se si iscrivono la sera quindi se tu vuoi fare rising star guardi dove Re e vai e porti la gente lì se sei troppo lontano fa niente usa il sistema tradizionale non ti preoccupare ma se sei nel circondario assolutamente vale la pena portare gli ospiti anche lì è vero che se devi fare due o tre ore di strada ne vengono meno ma quei meno sono selezionati se invece l'evento è sotto casa e vengono tutti non sono selezionati vai è nata da 22 persone che hanno preso l'aereo senza soldi dall'Italia a Chicago di quelle 22 persone 21 sono a basso d'ora uno ha smesso ma quando c'è da fare strada quando c'è da prendere aereo è vero che viene meno gente ma è già è già un pre funnel è già selezionata ok quindi basati su quello sarà il mese con più rising star possibile abbiamo un obiettivo personale di runners e se ce la facciamo la maglietta è a gratis per tutti i runners ovviamente 600 rising star sto mese sarà il mese più grande della storia sarà il vitality più bello di sempre sarà l'azienda più bella del mondo che si espande di continuo grazie a voi che state trovando un nuovo voi che state attraversando un percorso di crescita nel diventare la persona che volete diventare che meritate di diventare che nessuno vi ha mai detto che potevate diventare ma potete diventare perché noi lo siamo diventati abbiamo creato un ambiente che fa diventare le persone così abbiamo creato una cultura che fa diventare le persone così la cultura è la zuppa dove ti fanno bollire è la zuppa dove ti fanno bollire la nostra zuppa dove tu stai bollendo è una cultura di potenziamento che illumina le persone che le far crescere quindi non può non succedere ma lo devi volere lo devi volere dentro lo devi sentire qua quindi io spero che tu lo senta se è vero che è tutta mentalità e se è vero che la mentalità è il cervello in azione purtroppo fuori da vai ci fanno fare le operazioni sbagliate al cervello e a forza di farle farle e rifarle le operazioni del cervello diventano automatiche e danno degli input automatici purtroppo il 95% dei comportamenti è sotto autopilota e non puoi permetterti di continuare a fare quelle operazioni lì quindi lascia lavorare il tuo cervello che sa fare bene le operazioni fagli le domande giuste addormenti con una frase immagina se e poi ci vediamo domani ciao runners buonanotte bye bye ciao